Eccoci qua, benvenuti Ottoliner, appuntamento mensile con l'Indipendente, diretto da Andrea Legni. Oggi c'è la sua vice con noi, Valeria Casolario, che ha scritto l'articolo principale dell'edizione di questo mese. Parliamo appunto dell'edizione Kardashian mensile, la monografia che ogni mese gli amici dell'Indipendente vengono a presentare qua a Ottolina. Tra l'altro poi alla fine o più avanti poi magari Andrea vi dirà c'è un'offerta speciale per gli Ottoliner per abbonarsi all'Indipendente con appunto un piccolo sconto. Il titolo è appunto La lunga marcia per la libertà, a che punto siamo 75 anni dopo la dichiarazione universale dei diritti umani. e inizierei magari da Andrea che ci dà un po' una prospettiva complessiva sul numero e poi passerei a Valeria perché appunto ha curato un po' l'articolo principale che ricostruisce appunto questi 75 anni. Insomma, perché ora questo tema qua e cosa è emerso e su cosa vi siete concentrati, Andrea? Allora, buonasera a tutti e ben ritrovati insomma. Allora, il numero, diciamo l'assist di crona che ha di calendario è stato dato dal fatto che nel dicembre scorso c'è stato il 75esimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani che appunto venne dichiarata nel 48 e quindi l'idea è stata quella di fare un numero per riprenderla in mano, vedere un po' cosa diceva, quanto era ancora attuale, quanto era figlia del suo tempo perché poi essendo un prodotto culturale, come tutti i prodotti culturali, rifletteva l'epoca e anche le forze poi dominanti, è una carta molto occidentale, poi ne parleremo volendo e qual è il quadro dei diritti umani diciamo 75 anni dopo appunto la loro dichiarazione universale e quindi ci siamo, questo è stato un po' il quadro anche per parlare comunque di uno dei temi che comunque seguiamo sempre con una certa attenzione e allora da una parte appunto abbiamo fatto un quadro su quella che è la situazione attuale, abbiamo fatto un articolo con un po' di profondità storica anche anche antropologica appunto che è quello che ha curato Valeria per parlare appunto della carta, come nasce anche una certa idea comunque dei diritti umani e come viene portata avanti e poi ci chiediamo, andiamo nello specifico di alcune questioni, da una parte cosa frena anche in Occidente, c'è la situazione occidentale dei diritti umani dove magari per certi diritti si vede una costante spinta in avanti, in particolar modo per quelli individuali ma su altri tipi di diritti che erano comunque sanziti 75 anni fa si vede un quadro fosco, ecco, sia per alcune cose relative alla libertà di parole di diffusione delle idee, sia per alcuni tipi di diritti collettivi, diritti sul lavoro e quant'altro e poi ci si interroga anche su alcune altre questioni, tipo anche sui diritti delle persone non sessuali, comunque dei diritti di genere diciamo così, così come la questione delle migrazioni e poi in chiusura si parla da una parte di autodeterminazione dei popoli altro principio che è stabilito nella carta e che insomma meritava un quadro e in ultimo di quelle che sono un po' le richieste da parte di alcuni movimenti per una nuova carta dei diritti umani chiedendo in buona sostanza una carta che non sia più del tutto antropocentrica come se il pianeta fosse questa cosa che c'è solo l'uomo al centro a decidere tutto e a gestire le risorse a proprio unico benessere, a proprio unico interesse ma attenta anche, oltre che alle spezie animali, anche alla possibilità di lasciare un pianeta possibilmente abitabile alle generazioni future, ecco, quindi questo è un po' il quadro del Messina Chiaro, questa appunto è la prima pagina, diciamo, no senza dirlo, la prima pagina dell'articolo di Valeria appunto la costruzione dei diritti umani universali, appunto come ha annunciato Andrea ovviamente è una costruzione culturale, quindi ha ricostruito il contesto in cui è nata e anche un po', diciamo, come è invecchiata questa costituzione, la dichiarazione dei diritti umani universali prego Valeria, raccontaci un po', faccia un po' il zunto di questi 75 anni di storia Allora, sono molto più di 75 anni, cioè sono 75 anni dalla dichiarazione del 48 ma la questione dei diritti umani è una questione che ha una storia antichissima che affonda le radici nell'antica Grecia ed è importantissimo ricordare la dimensione storica perché come tantissime produzioni culturali nate non solo in occidente ma proprio nel vecchio continente europeo siamo convinti che abbiano una dimensione assoluta sono in realtà delle produzioni culturali estremamente etnocentriche in primo luogo e determinate da condizioni sociali, culturali, storiche, economiche ben definite e i diritti umani come la democrazia, come insomma tante altre cose partorite dall'occidente i diritti umani sono una di queste è interessante secondo me ricordare così a margine che il 48 è stato l'anno in cui è stata emanata la dichiarazione dei diritti universali ed è stata anche l'anno della Nakba, quella che i palestinesi ricordano come Nakba quindi è un po' lo spoiler di quella che è la direzione che prenderanno poi i diritti umani la concezione dei diritti umani occidentale ed è un, come dicevo, la storia dei diritti umani affonda le radici nell'antica Grecia perché addirittura se ne fa menzione, gli studiosi ritengono che la prima menzione in assoluto di un diritto che va al di sopra delle leggi dell'uomo sia nell'Antigone di Sofocle che è andata per la prima volta in scena nel 442 a.C. ad Atene dove Antigone diceva che per giustificare il fatto che avesse seppellito contro gli ordini del padre il corpo del fratello Polluce si rifaceva una legge, alla legge divina che era superiore a quella degli dei, a quella degli umani che era appunto la legge degli dei da qui prende inizio una storia che attraversa tutto praticamente il pensiero filosofico economico della storia del vecchio continente, i diritti umani anche se non in questi termini ma di diritti dell'uomo, ne ha parlato la filosofia cattolica, la filosofia in generale ne hanno parlato i giust naturalisti che sono quelli che hanno posto poi le basi di quelli che erano i diritti, il primo abbozzo dei diritti dell'uomo vi gioca un ruolo, è tutta una cosa che si gioca intorno alla costruzione del concetto di individuo e di essere umano che da una parte va di pari passo con la secolarizzazione della società perché anticamente il, il, vi ho persi tutti, vi siete bloccati? Ok, in modo non mi vedavo pure, tutto bloccato, ok il, il, da una parte c'è la secolarizzazione della società perché soprattutto anticamente ma non è una cosa che proprio è andata perduta nel pensiero cattolico L'importanza, la vita vera si viveva dopo la morte, nell'aldilà, quindi tutto ciò che accadeva nella vita terrena non aveva importanza, perché la vita vera si sarebbe iniziata dopo. Quindi, con la secolarizzazione della società, con l'acquisizione della consapevolezza che in realtà la vita è qui e adesso, che si ha soprattutto con l'avvento dell'illuminismo, nei delitti delle pene, Cesare Beccaria scrive che l'essere umano è molto più colpito dall'essere imprigionato per 20 o 30 anni, piuttosto che dalla pena di morte perché percepisce la morte come lontana da sé, ed è il momento in cui si sancisce in maniera definitiva il fatto che la vita, il processo di secolarizzazione della società, quindi il fatto che la vita viene vissuta qui e ora, quindi l'essere umano qui e ora ha bisogno che la sua vita sia tutelata in qualche modo. I primi a porre le basi giuridiche del concetto dei diritti umani sono i gius naturalisti e il gius naturalismo è un passaggio fondamentale. Io chiaramente nell'articolo che ho scritto ho selezionato alcuni passaggi del pensiero occidentale perché sarebbe veramente stato impossibile citare tutto, cioè in materia da corsi universitari la storia dei diritti umani. Però per esempio nel pensiero gius naturalista ha radice uno di quei diritti che è indicativo di quanto sia etnocentrica e centrata nella cultura occidentale la filosofia dei diritti umani, la concezione dei diritti umani che è il diritto alla proprietà, perché la carta dichiarazione dei diritti umani del 1948 sancisce come diritto fondamentale dell'essere umano il diritto alla proprietà, che è stato teorizzato da Locke, che è considerato il padre del neoliberismo, per il quale la proprietà privata era un diritto inalienabile dell'uomo, ciò che tu possedevi, ciò che veniva prodotto col lavoro delle tue mani e del tuo corpo non ti poteva essere sottratto. E questa è stata poi la scusa che le società agricole con velletà imperialistiche hanno usato per conquistare territori in tutto il mondo, la stessa scusa che hanno usato i coloni americani, infatti Jefferson considerava John Locke uno dei suoi, un punto fermo del suo pensiero, per cui i selvaggi non hanno diritto alla terra, noi abbiamo diritto alla terra perché noi la lavoriamo con le nostre mani e quindi è nostro diritto, noi abbiamo diritto di possesso su di essa. La dichiarazione del 48 si basa su due documenti, proprio per la sua stesura, su due documenti che sono poi le due dichiarazioni fondamentali che sono state redatte in precedenza, che sono la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776 e la dichiarazione dei diritti umani e dell'uomo e del cittadino dell'89, la dichiarazione francese, che sono due documenti. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è di fatto il primo documento che sancisce è una dichiarazione dei diritti, prima ancora che una dichiarazione di indipendenza, perché quello che i coloni fanno è mettere insieme il frutto di un pensiero, di una filosofia appunto millenaria a questo punto, per dire che esistono dei diritti che sono autoevidenti, che sono talmente autoevidenti che non c'è neanche bisogno di dire che il discorso che Jefferson e gli altri fanno e che gli esseri umani sono uguali ed è così, non c'è neanche bisogno di stare a discutere, sono verità autoevidenti. L'uomo ha diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità e gli sta, lo Stato deve garantire questi diritti, perché altrimenti si tratta di uno Stato dispotico e allora i cittadini hanno diritti di ribellarsi allo Stato dispotico, perché come prima cosa lo Stato deve garantire queste cose basilari ai suoi cittadini, che era chiaramente tutto un escamotage per dire che non volevano saperne dell'ingerenza del Red Inghilterra sulle loro cose, che loro volevano rendersi indipendenti e non sottostare a quella che era la legge del Red Inghilterra. L'altra dichiarazione fondamentale, appunto per poi arrivare all'elaborazione di quella del 48, è la dichiarazione francese, che nasce in un contesto completamente diverso, perché nasce nel cuore dell'ancien regime, quindi un regime millenario che è difficile da eliminare, è difficile dargli il giro, perché ci sono veramente migliaia di anni, cioè un migliaio di anni di storia alle spalle, al contrario di quanto era successo in America, dove i coloni sostanzialmente partivano da zero, tutte quelle che erano i retaggi europei se li sono lasciati appunto in Europa, e quindi è una dichiarazione molto più concreta. È la dichiarazione, se vogliamo, che avvia la discussione sui diritti umani, la sposta da un piano filosofico a un piano più prettamente riguardante i diritti politici, cioè grazie alla rivoluzione francese, al tardo illuminismo, che i diritti umani diventano in materia di discorso, diritti politici sostanzialmente, perché quello che i rivoluzionari vogliono fare è rifondare il potere stesso, cioè usare i diritti per dar vita alla nuova sovranità popolare. E quindi i diritti non sono autoevidenti, come sostenevano gli americani, ma sono fondati nella storia civile e politica dell'umanità. È proprio un documento che ha un valore molto più concreto. Passando poi, facendo un salto, anche per sintetizzare, sto facendo dei salti giganteschi, perché ci sono fior di pensatori e di personalità che hanno poi contribuito a lavorare quella che è la storia, i diritti umani come li conosciamo oggi. Oggi i diritti umani sono lo strumento sostanzialmente per il, come dire, per portare avanti le vellità neoimperialiste delle nuove, cioè delle potenze occidentali, perché grazie alla teoria del noi andiamo, esportiamo la democrazia, esportiamo i diritti umani, esportiamo il benessere, vogliamo aiutare, cioè questa falsa filantropia, questo falso interesse per il benessere dei popoli viene usato spesso e volentieri come scusa per portare a termine quelle che sono poi le vellità neoimperialiste di Stati Uniti e di tutti i governi occidentali al seguito. Però appunto è importante ricordarsi che non è che dopo la seconda guerra mondiale si sono ritrovati, le nazioni occidentali si sono ritrovate attorno a un tavolo per discutere di quante cose brutte erano successe durante la guerra che non si facesse in modo che non succedessero più. È una storia che appunto ha delle radici molto più profonde e molto più allargate e niente, questo era un po' quello che voleva fare il filo conduttore che doveva essere poi il pezzo introduttivo al nuovo, al monthly report. Ma io appunto, Valeria ha fatto benissimo insomma subito a annunciare in qualche modo il ruolo strumentale, l'utilizzo strumentale che si fa dell'universalismo dei diritti umani in questa fase appunto neoimperiale, però mi chiedevo un pochino se attraverso questo insomma il lavoro che avete fatto per portare a casa questo numero un po', perché appunto il dibattito continua a essere quello tra la possibilità di determinare dei diritti essenziali che siano universali e invece appunto un approccio più dialettico, storicistico eccetera che mette in confronto in qualche modo le culture diverse relativizzando in qualche modo un po' il tutto. Ovviamente questo dibattito viene un po' poi anche, come si dice, snaturato dall'ipocresia con cui chi invece sostiene l'universalità di alcuni diritti che poi appunto in realtà poi concretamente sono attuabili e attuati soltanto in una parte molto marginale del pianeta e anzi gli stessi difensori dei diritti umani sono poi quelli che poi li negano alla radice diciamo al resto del pianeta. Volevo capire un attimo se da questo punto di vista qua insomma che idea avevate fatti di questo dibattito, cioè oggi è un'era nella quale rilanciare la centralità, la necessità di alcuni diritti universali, universalmente riconosciuti e quindi lavorare semplicemente per la loro attuazione concreta oppure in qualche modo questa è in qualche modo la storia degli ultimi 70 anni ci racconta che il percorso deve partire da alcune basi concrete e poi questa universalità dei diritti insomma al limite arriva alla fine di un lungo processo storico appunto di confronto e di conflitto. Adio. Come vuoi? Avevo delle risposte, vai vai vai. No nel senso che la pretesa non può esistere un... partiamo dal presupposto che appunto parlare di valori universali non è non è non è non è non è fattibile non è un discorso che può essere fattibile perché non tiene in considerazione come dire è una sovrastruttura che si va ad applicare che perché alla pretesa di andarsi ad applicare a una realtà che in realtà è molto sfaccettata e molto fragmentata e non non presuppone anche un interesse filantropico che in realtà non esiste perché in realtà dal dall'inizio i diritti umani sono stati messi su carta sono stati largamente disapplicati tanto più che la dichiarazione dei diritti umani non non è un documento ehm 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 come dire vincolante sono non sono molti gli stati nella realtà dei fatti che eh hanno poi firmato delle del del perché dal dalla dichiarazione dei diritti umani sono nati protocolli sono nati convenzioni sono nati tutta una serie di robe per tutelare dei diritti specifici ma non sono in realtà molti gli stati che eh che poi hanno firmato eh questi protocolli e per una per un per un miliardo di motivi che insomma fare un discorso generale forse è complicato però ehm ecco in un in un in un articolo che c'era all'interno del 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 mensile eh si parla appunto del fatto che la società neoliberista è una società ehm individualista ed essendo una società individualista e frammentata porta i i singoli individui in competizione l'uno con l'altro e quindi eh eh è in contraddizione stessa con la la eh la retorica dei diritti umani perché eh ciascuno è portato ad agire per eh per il proprio interesse per il proprio bene per il proprio guadagno e eh e via dicendo quindi eh quindi boh quindi è un discorso complesso Andrea allora eh secondo me sicuramente sarebbe materia su cui eh relativizzare e eh fare anche appunto come come abbiamo cercato di fare in parte in parte del documento del del mensile una riflessione sul fatto che appunto si parte su di categorie filosofiche che sono evidentemente frutto della produzione occidentale e che lì crescono si sviluppano e hanno le radici ehm questo poi d'altra parte non significa secondo me necessariamente che eh alcuni diritti non possano avere pretesa di universalità cioè io sono relativista di di natura nel senso che eh cerco sempre di eh andare a individuare l'elettrocentrismo e la la relatività appunto di di una certa di una certo pensiero però eh tuttavia credo che ad esempio alcuni diritti quali eh la libertà di autodeterminarsi in quanto popolo piuttosto che eh la eh possibilità di avere un grado di eh libertà personale eh relativamente alla alla possibilità di esprimere le proprie idee e eh poterle poterle diffondere eh e anche magari perché no a non essere arbitrariamente messi in carcere eh per eh reati politici o cose del genere credo che siano cose che meritano eh un approccio universalistico questo questo poi è il mio parere eh poi se vogliamo parlare della questione appunto antropocentrica dei diritti umani etnocentrica dei diritti umani in quanto tale sicuramente si possono fare mille riflessioni e forse lì sarebbe interessante eh non solo diciamo eh capire come la eh scriverebbe e e e trovare un punto di incontro con un asiatico piuttosto che eh un un africano però eh sarebbe proprio secondo me anche molto interessante lì quando parlavo all'inizio del dell'iposi che molti movimenti fanno che io trovo sensato della necessità di scrivere una nuova carta chiedersi ad esempio invitare gli indigeni a a a a darci qualche spunto su quello che è una corretta concessione dei dei diritti no perché appunto vado in una direzione eh più allargata e quindi ecco questo questo un po' un po' il discorso secondo me poi ehm sicuramente quello che poi noi ci siamo concentrati anche molto eh vuoi anche anche approccio limitato volendo però eh su quello che è il quadro anche all'interno dell'Occidente appunto per riflettere su su quello che è eh l'attuazione anche quale che sia quella che è un po' l'attualità e l'utopia di alcuni certi diritti nonché sul modo poi strumentale con cui vengono applicati perché poi possiamo essere tutti d'accordo ad esempio che esiste un diritto all'autodeterminazione dei popoli poi sull'applicazione concreta eh di questo eh si apre la terra dell'arbitrio perché poi un discorso è sanzire un diritto a livello eh così in eh tre righe di di bei propositi sul fatto che tutti i popoli hanno un diritto ad autodeterminarsi a decidere da sé il proprio destino e ad avere proprie strutture di governo indipendenti eh altro conto è poi andare a stabilire i terreni concreti no? E allora si trova lì si va sull'arbitrio più totale eh non solo a stabilire non solo alcuni casi macroscopici negati come appunto sono quelli dei dei palestinesi piuttosto che dei kurdi che che è indiscutibile dal punto di vista della lettura dei diritti umani e del di quello che è la definizione di autodeterminazione che lì ci sono violazioni evidenti di un diritto poi c'è tutta la terra del conteso cioè su cui ancora ci si interroga e si interrogano anche chi mastica la materia e riflette su quello che è il criterio di autodeterminazione tipo ad esempio che ne so il caso dei catalani caso dei catalani si può aprire un dibattito che si termina dopo domani se rientrano nel principio dell'autodeterminazione oppure no eh che poi significa darla anche alla padania e allora c'è eh anche se ovviamente il caso è estremamente diverso non ha nessun senso paragonarli però eh questo è un altro caso e poi anche al Modali si entra nella terra dell'arbitrio eh quasi sempre per trattamenti da da occidente in buona sostanza dagli americani dall'occidente collettivo insomma eh di ad esempio il caso del Kosovo Kosovo va bene si va a diritto alla tua determinazione i serbi sono bruttissimi cattivissimi opprimono la loro provincia maggioranza albanese eh che non ha diritto di parlare la propria lingua eh che si trova nella condizione di non di avere documenti scritto in cirillico queste erano delle fonti di protesta e quant'altro e arbitra e detenzioni arbitrarie eccetera eccetera e quindi eh assolutamente il Kosovo vale diritto dell'indipendenza andiamo anche a bombardare la Serbia per i diritti umani dei kosovani eh la Russia eh tempo fa e non avendo eh eh diciamo a livello sensato di 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 lettura delle non non c'era niente di particolarmente controverso disse ok il principio del Kosovo applichiamolo anche al Donbass è la stessa cosa una minoranza eh che vive in un altro paese che però culturalmente storicamente linguisticamente eh è parte di un'altra nazione così come i kosovari albanesi sono appunto albanesi in Donbass i russofoni sui sentono russi e quindi perché no applichiamo la la stesso principio che è stato applicato al Kosovo ovviamente la risposta è no nel senso che poi appunto si li si entra nella nella questione dell'arbitro più totale ecco chiarissimo chiarissimo no mi va anche diciamo anche rispetto all'altro elemento no che sottolineavi sulla libertà appunto di di espressione eccetera ovviamente insomma ci possano essere insomma condizioni storiche ben diverse appunto facendo un caso no a Cuba eh io faccio una rivoluzione ovviamente diciamo c'ho una forza materiale delle forze contro rivoluzionarie importante in qualche modo quello è uno strumento sicuramente diciamo eh sempre criticabile più che critica insomma criticabile è un eufemismo in qualche modo però eh diciamo ovviamente se non ti cali poi nella concretezza storica eh di codi appunto del singolo eh del singolo episodio diventa un po' difficile generalizzare da quel punto di vista lì credo sia anche molto importante stabilire quali sono proprio i meccanismi concreti anche gli organi no deputati a fare questo perché ovviamente uno dei problemi è che non è tanto riconoscere l'autodeterminazione dei popoli uno dei problemi è l'arbitrarietà appunto con quale gli organi che poi possono intervenire rispetto a questa cosa qua e poi hanno influenze che mirano eh da un certo punto di vista qua da questo punto di vista qua diciamo lo stato dell'arte delle istituzioni preposte in qualche modo a trasformare il principio astratto della carta in qualcosa di applicabile in qualcosa di esigibile eh qual è a 75 anni dalla stesura del ma qui è tirato fuori secondo me un dei concetti base su cui su cui dibattere un attimo nel senso che poi come tutte le dichiarazioni a carattere universalistico e di diritti eh funzionano molto bene diciamo finché li vedi in in vitro eh poi la 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 l'applicazione dipende da tutta una serie di cose cioè eh la carta dei diritti umani è perfetta è assolutamente ehm condivisibile perfetta vabbè ho usato la parola esagerata però è largamente condivisibile eh se si partisse dal presupposto che non esistono interferenze esterne non esiste non esistono particolari problematiche ad applicarla eh caso di Cuba ad esempio io da da giornalista per definizione in favore eh della stampa libera e parliamo di Assange parliamo di di denunciamo i limiti che ci sono anche in Italia alla libertà di stampa oggi parlavamo del processo allucinante scattato nei confronti di alcuni anarchici di Carrara accusati di 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 associazione sovversiva a fini terroristici si rischiano fino a dieci anni di carcere per cui ha pubblicato un periodico eh poi dopo in realtà eh a Cuba non mi sentirei assolutamente di fare il difensore della libertà di stampa all'occidentale perché eh Cuba ad esempio è eh da eh 60 anni eh dal 59 eh non solo sotto embargo ma soprattutto con un'appetenza che è quella statunitense a un braccio di mare di distanza che ha organizzato migliaia di attentati cercato in tutti i modi di eh rovesciare la rivoluzione e lì a Cuba eh eh ammettere la libertà di stampa come ce l'immaginiamo in occidente significherebbe da domani trovarsi decine di testate online a cara del cartace televisive con milioni di dollari di sovvenzione da New York da Washington per eh in buona sostanza eh cercare di fomentare una rivolta al gruppo di Stato quindi è chiaro è chiaro che qui non si parla di libertà di stampa qui si parla di proteggere un sistema da interferenze interessate in stabilito penalistico questa è una cosa completamente diversa e quindi e quindi qui questo ci dà la dimostrazione che ragionare sui diritti umani come una cosa che possiamo osservare il laboratorio e dire che manca questo manca quest'altro sotto sotto vetro eh si porta completamente fuori dalla realtà eh parlando di questo mi sono scordato qual era l'altra parte di domanda no da tutto di vista lo stato dell'arte e delle istituzioni e degli organismi eh transnazionali che in qualche modo dovrebbero eh presidiare in qualche modo anche rendere esigibile eh la carta in qualche modo quindi l'ONU e quindi la corte penale internazionale e quindi vale su questo sei più ferrata di me nel senso che poi eh mi pare che lo stato dell'arte sia andiamo un po' così nel senso che non è che esistono poi istituzioni internazionali che vanno no allora diciamo che dalla 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 stesura della come dicevamo prima no la carta dei diritti umani eh la dichiarazione universale dei diritti umani non è un documento con valore vincolante eh dal ehm dalla 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 stesura della carta dei diritti umani sono nate una serie di convenzioni le convenzioni di Ginevra, la convenzione per i migranti, per i fuggiati, la convenzione contro la tortura e via dicendo. Allo stato attuale delle cose eh la firma del eh la ratifica di questi di 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 questi documenti è eh estremamente variegata ed estremamente basti pensare che ehm eh alla quantità di stati che ancora praticano la la pena di morte nei quali ancora in vigore la pena di morte che è chiaramente eh in in contraddizione con il diritto alla vita del degli esseri umani e vi dice che sancito chiaramente dalla dichiarazione dei diritti universali gli Stati Uniti per fare un esempio ma gli Stati Uniti per esempio non sono neanche né firma non hanno né firmato né ratificato la convenzione contro la tortura quindi vuol dire che sostanzialmente nelle eh negli Stati Uniti non è possibile elaborare un reato di tortura basti pensare solo alla situazione nelle carceri perché non l'hanno fatto perché possono non farlo della eh corte penale internazionale che ehm eh dell'AIA che l'organo eh che dovrebbe mh occuparsi di di indagare sui crimini eh contro l'umanità i crimini di guerra quindi i crimini particolari con potere anche di indagare ehm all'interno delle varie nazioni che ne fanno parte tutte le principali potenze non non l'hanno ratificata e quindi ehm il il problema è che di di fondo è che la dichiarazione dei diritti umani è una dichiarazione di intenti ed è bellissima come viene fatta per la per la cultura occidentale e sicuramente eh io ci tengo a specificarlo perché poi appunto non 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 si può pensare cioè non non mi piace per quanto io sia d'accordo con con quello che diceva Andrea che determinati tipi di diritti dovrebbero essere considerati universali comunque è sempre una visione etnocentrica è comunque sempre la mia visione di persona bianca occidentale che ha un certo tipo di idea e quindi non ho pretesa di 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 applicazione universale perché non non mi sento di dirlo però ehm è una dichiarazione di intenti ed è un ed è secondo me la dimostrazione la la distanza che c'è tra l'applicazione pratica e eh e la filosofia dei diritti umani è proprio quello che ricorda che i diritti umani sono in quanto produzione culturale da oggi a domani potremmo cancellarli e e potrebbe succedere benissimo perché così come li abbiamo creati così possono essere eh possono essere eh possono essere possono essere tolti basti pensare alla al anche solo anche quando la legge viene applicata perché per esempio per la questione dei migranti il diritto all'asilo il diritto allo spostamento sono due diritti che sono eh entrambe garantiti dalla dichiarazione dei diritti universali eh esiste una regolamentazione eh che impone agli stati ehm un certo tipo di regole che impone l'accoglienza per cui eh ci sono delle leggi che specificano che non non si può ehm negare l'asilo a a una persona che venga a chiedere che che entri nei confini dello Stato c'è l'articolo 33 della della convenzione di 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 Ginevra sui migranti che sancisce proprio il 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 divieto del refoulement cioè del 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 rimandare indietro la gente che arriva in mare non non si può fare perché tu devi garantire quel diritto alla 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 gente che arriva un diritto fondamentale questione di politica questione di interesse degli stati questione di anche quando ci sono le leggi questi principi vengono aggirati perché comunque si si tende a fare poi quello che ehm che il governo di turno ha interesse di fare no? Quindi cioè lo stiamo vedendo adesso che i i gli accordi con per esempio quello che ha siglato adesso l'Italia con con l'Albania a mi pare che sia in violazione se non erro di 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 che sia stato proprio interrotto tra l'altro dalla dalla corte albanese perché in violazione di TOT eh regolamentazioni sovranazionali europee comunque c'è il il la Meloni e Rama si sono trovati hanno stretto questo accordo e l'accordo stava partendo e eh l'esternalizzazione delle frontiere è chiaramente una violazione totale del diritto di asilo che è un diritto umano universale eppure si fa lo stesso quindi in realtà anche quando ci sono le le leggi che prevedono la tutela di un determinato diritto se non c'è interesse a tutelare quel determinato diritto lo si aggira in qualche modo a prescindere che esistano delle 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 degli organismi internazionali oppure no ehm chiaro e questo dimmi no no dicevo chiaro 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 la 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 non so se ti ho interrotto mi sei niente va bene e quindi allora ribadiamo volevi fai now interrupt for a commercial come diceva Ornette Coleman vai Andrea fai lo spot del numero e ricorda agli Ottoliner la fantastica occasione promozionale che i nostri amici dell'indipendente offrono a chi sta seguendo ora su Ottoliner ma non ti sento più ecco certo certo come marketing ragazzi anche voi no dicevo che la faccia da spot non è molto credibile tuttavia visto abbiamo pensato di attivare una promozione per chi ci segue qui da Ottoliner che si potrà abbonare agli abbonamenti a 6-12 mesi col 30% di sconto e quindi poi vedere il nostro speciale mensile appunto di inchiesta questo appunto è la sua diritto umana ci sono anche tutti gli storici il prossimo che sarà sulla Palestina che esce tra un paio di settimane riceve la nostra newsletter quotidiana e quant'altro quindi per chi vuole ovviamente è un servizio che si ottiene ed è un modo per darci una mano a noi visto che non abbiamo pubblicità e nessun'altra forma di introito se non appunto il sostegno degli abbonati metteremo appunto un link nella descrizione del video e nei commenti e attraverso quel link vi potete abbonare con questo scondo grazie mille Andrea, grazie mille Valeria ci rivediamo fra poco, ora questa volta qua abbiamo ritardato per le feste il numero prossimo esce tra due settimane esce esatto tra due settimane pochi giorni dopo all'uscita del numero ci ritroviamo per parlare dell'ultimo numero grazie mille ciao a tutti buona serata ciao 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 ciao